Ciao, sono Paolo Brada, mi piace riparare di tutto e riciclare ciò che non è riparabile. Iscriviti al canale e spunta la campanella con la voce tutte, così saprai quando pubblico un nuovo video. Grazie. 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 Ogni amici. Anche questo video è terminato, io come sempre vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti, vi chiedo anche di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e spuntare la campanellina se volete restare aggiornati sui futuri video mettete mi piace se il video vi è piaciuto o non mi piace se il video non vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici perché potrebbe essere utile a tanti altri come noi appassionati di fai da te così facendomi aiuterete a far capire al mondo intero quanto è importante riciclare, riutilizzare, utilizzare le proprie mani e quanto è bello costruirsi le cose in fai da te detto ciò a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti